più grandi qua per evitare problemi abbiamo creato una crostatina leggermente un po' più grossa di quello che deve essere perché se no con il viaggio ho paura di rovinare però bisogna tenere sicuramente un po' più sottile l'ho fatto apposta per far vedere che comunque si possono fare guardate la bellezza che ha questa forma grande o piccola, queste sono bellissime queste si possono creare anche per fare dei dolci moderni chi ha visto il libro anche di Gianluca Fusto avete visto come si possono riuscire a fare secondo me personalmente ritengo che il libro sulle crostate siano dei libri che siano stati fatti ultimamente anche se l'ha fatto Gianluca no